Questa riconferma mi è assolutamente gradita, anche per continuare l'attività che avevo iniziato e intrapreso nel corso di questa seppur breve esperienza parlamentare. Devo dire che sono assolutamente felice, veramente, perché vista la scarsa affluenza al voto, avevo delle preoccupazioni, delle perplessità sulla possibilità di poter ottenere qualcosa considerato che i miei elettori non sono degli elettori che provengono dalla politica ma sono voti d'opinione, sono voti di persone che mi hanno conosciuto nel corso della mia attività professionale, nel corso della mia attività amministrativa, sono stati più gli amici, gli amici di Marsala, gli amici di Castellammare, gli amici di Campobello, gli amici di Gibellina, insomma molti che hanno avuto questa grande affabilità di darmi il loro sostegno, hanno creduto in me, io credo in loro, io spero di poter mantenere tutti gli impegni che ho promesso durante la mia campagna elettorale che poi sono degli impegni che riguardano soprattutto i giovani. Io ho voluto proprio inaugurare la mia apertura della campagna elettorale, ho voluto chiudere la campagna elettorale con i giovani, con i giovani sul palco, senza politici, con uno strumento aggregante che è la musica perché ritengo che bisogna coinvolgere i giovani, meglio dello sport e della musica non c'è per coinvolgere i giovani che sono distanti dalla politica, che sono distanti dalle istituzioni e che debbono essere riavvicinati alla politica e alle istituzioni. Grazie a tutti.